Fratelli Juventini e sorelle Juventine benvenuti al prepartita di Juventus Ferenvaros. Prima di entrare nel vivo del video ci tengo in modo particolare a ringraziare il mio amico Agostino di Adidas che mi ha fatto avere questa fotografia autografata del nostro Andrea Pirlo è stato carinissimo a Max con stima Andrea Pirlo e soprattutto voglio ringraziare l'Adidas perché avendo fatto una partnership con loro grazie sempre al mio amico Agostino per donare tutti i mesi una maglia a un iscritto o a un abbonato ho il piacere di farvi vedere la maglia che mi è arrivata del abbonato che ha vinto nel mese di ottobre poi fra due mesi ci sarà un altro vi faccio vedere quando gli ho comunicato che ha vinto mi ha chiesto cosa voleva sulla maglietta ma ha detto che voleva il nome e il numero ha scelto il 10 queste ovviamente sono magliette originali della Juventus che chi si abbona al mio canale per ringraziare il fatto che aiuta i bambini dell'ospedale pediatrico Pietro Barilla di Parma io ogni due mesi appunto agli abbonati dono una maglietta penso che sarà difficile trovare un canale che regala 90 euro di maglietta tutti tutti i mesi praticamente però c'è gente che riesce a criticarmi anche per questo comunque problemi loro fatevi curare che ne avete bisogno io sono molto contento di fare felice persone come Giulio come Marco che l'ha vinta il mese scorso come Andrea come i prossimi che vinceranno la maglietta ok benissimo veniamo a noi domani sera partita sulla carta passeggiata quella che io chiamo allenamenti in vista di partite più importanti ritorno di fatto con il Ferenvaros dopo che abbiamo fatto una bella partita la abbiamo vinto bene domani sera giocheranno Danilo e De Ligt centrali a sinistra tornerà dal primo minuto Sandro a destra giocherà a quadrado al centrocampo Artur sicuramente o Betancourt Spirlo non ha ancora scelto il nodo e poi giocherà uno fra Rabiot e McKennie poi ci sarà il ballottaggio fra Chiesa e Kuluseschi ma sicuramente giocherà Bernardeschi questo è poco ma sicuro e in avanti dovrebbe partire dal primo minuto di bala dando un po di respiro a Morata che fino adesso non è assaltata neanche una quindi diciamo che una Juventus sempre con due punte ovviamente CR7 non si tocca probabilmente farà darà un po di farà un po di cambi perché se la partita si mette bene fin dal primo minuto o addirittura entro la fine del primo tempo potrà fare dei cambi numerosi cambi quindi potrà far giocare sia Morata che di bala potrà far giocare magari anche quadradone potrà far giocare magari giocatori che hanno giocato di più che fanno riposare ma la cosa che lui ha già comunicato oggi in conferenza stampa è che giocheranno appunto centrali De Ligt e De Miral con Sandro appunto e Quadrado. Signori una partita che dobbiamo assolutamente vincere perché vincendola mettiamo già un piede e mezzo agli ottavi perché chiaramente rimarrebbero a un punto il Feren Waros dovrebbe rimanere a un punto anche la Dinamo Kiev la Juventus salirebbe a 9 e ovviamente la Juventus sarebbe matematicamente qualificata perché anche non vincendo più neanche una partita cosa impossibile perché poi avremo una partita con la Dinamo Kiev le altre due cioè Feren Waros e Dinamo Kiev per arrivare a 9 punti dovrebbero fare 4 punti ogni partita e non è possibile ancora nel calcio per cui domani sera di fatto dovremo staccare il biglietto non dico ufficialmente ma ufficiosamente per gli ottavi di finale di Champions League e sinceramente a metà novembre o ben o meno quasi fine novembre è tanta roba perché possiamo concentrarci molto bene sul campionato dopo tranquillamente dove dobbiamo rincorrere un Milan scatenato e un sassuolo di giovinotti bizzarri che stanno giocando veramente bene. Signori io vi do appuntamento a domani sera per l'analisi post partita di Juventus Feren Waros e ovviamente alle pagelle. Ci tengo a sottolineare che non ci sarà la partita di PES di Juventus Feren Waros perché siccome non ho scaricato la patch e non ho la squadra l'andata ho avuto anche delle critiche perché non ho utilizzato il Feren Waros veramente ma era una squadra con un nome simile e sinceramente avendo anche poco tempo a disposizione per impegni di lavoro perché sapete che è una squadra di fotografia che sta andando molto bene e ringrazio tutti i ragazzi che si stanno iscrivendo non farò questa partita salterà questa partita ma PES 2021 contest quindi non mandate i pronostici tornerà puntualmente per la partita di Benevento cioè Benevento Juventus quindi entro sabato a mezzogiorno non so se la Juve gioca sabato o gioca domenica comunque il mezzogiorno del giorno precedente mandate il contest risultato va bene non dovete darmi il risultato 2 a 1 3 a 0 4 a 0 dovete darmi 1 o x o 2 come la schedina va bene se azzeccate vincete un risultato non serve non mi interessa va bene quindi io faccio i complimenti ancora Giulio per aver vinto la maglietta questo mese chissà chi vincerà la maglietta il prossimo mese chiaro che se vi abbonate avete la possibilità di essere estratti fra un centinaio di persone e non fra 13 mila se siete iscritti comunque e soprattutto la cosa più importante non è tanto per la maglietta che so che a voi magari può far piacere è che potete far felici dei bambini che hanno dei gravi problemi di salute e che lottano contro la vita ok per la vita scusate non contro la vita lottano per la vita contro la morte fino alla fine forza Juve forever and ever uber ales pirlo uno di noi grazie mister per l'autografo e la delica ciao a tutti ciao a tutti